La luce in fondo al tunnel per l'economia bassanese, se c'è, è davvero molto fioca. Sulla scia di quanto è accaduto con la Bayera Mussolente, l'Axonobel a Romano Dezzelino, un'altra multinazionale lascia il bassanese, la Chemila di Sandrigo, un'azienda chimica con 35 dipendenti. E anche qui non si tratta, come nel caso di piccole e medie industrie, di chiusure per crisi, ma di scelte strategiche compiute lontano. Queste multinazionali, se facciamo riferimento in questo caso alla chimica, sono multinazionali che arrivano, ripeto quello che ho detto prima, in qualche maniera recuperano tutto quello che è possibile dal punto di vista, e tra l'altro aziende che continuano a funzionare poi nei nostri territori, e di fatto però decidono di andare da un'altra parte. Una situazione di crisi che colpisce trasversalmente quasi tutti i settori dell'economia bassanese. Circa 100 persone al mese perdono il lavoro e le difficoltà a ritrovare occupazione a volte sono enormi. Anche se ora per alcuni si apre lo spiraglio d'accesso alla pensione attraverso un provvedimento denominato Quarta Salvaguardia. Persone come intanto che abbiano già 35 anni di lavoro, ovviamente, ma che alla data del 31-12-2011 abbiano perso il posto di lavoro e quindi non abbiano più nessun tipo di ammortizzatore sociale. Quindi molti licenziamenti individuali. La seconda possibilità sono le persone che purtroppo, magari, nella loro vita hanno richiesto un congedo straordinario per la legge 104, magari per accudire la moglie o il marito. Per queste due tipologie di disoccupati è possibile, se si presenta domanda entro il 26 febbraio, di accedere ad una sorta di scivolo verso la pensione. Il consiglio è di controllare, magari attraverso i patronati, la propria condizione e di fare in fretta perché il provvedimento è riservato ad appena 9.000 persone in tutta Italia. È una lotteria, sì. Purtroppo andare in pensione in questo paese è diventato quasi una lotteria. Ecco. Ecco.